Musica Benvenuti dal TG10, l'apertura anche oggi dal telegiornale la dedichiamo alla bocciatura in prima commissione affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana del disegno di legge sui nuovi confini territoriali. Come ha riferito ieri, Gela, Nicemi, Piazza Merina, Licoria e Obea non emigrano e rimangono dove sono, nonostante i referendum confermativi e il sì dei rispettivi consigli comunali. La politica locale alza la voce e così facendo si calpesta la volontà manifestata dai gelesi. La bocciatura del disegno di legge sui liberi consorsi da parte della commissione affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana manifesta una chiara scelta che distrugge almeno per adesso il sogno dei cittadini gelesi. Tutto rimane com'è. Coro unanime da parte della politica. Per il consigliere comunale indipendente Angela Maria di Modica pare chiaro che la commissione ha interpretato con particolare attenzione la volontà di una parte della politica di voler mantenere lo status quo impedendo di fatto l'evoluzione geopolitica del comprensorio perché è evidente che la costituenda area metropolitana di Catania sposterebbe le assi del potere politico ed economico a favore di essa garantendo l'azzeramento delle posizioni politiche ed economiche di vantaggio e la nuova distribuzione dei collegi elettorali. Fin dall'inizio continua il consigliere comunale e i deputati gelesi erano contrari alla costituzione dell'area metropolitana di Catania e lo avevano già manifestato ma è del tutto impopolare se non anche imprudente sul piano politico ed economico affossare la volontà popolare ed al civico consesso. C'era la consapevolezza che si trattava di un passaggio irto di difficoltà e che la nuova legge si discostava per alcuni aspetti dalla referendum ma nonostante ciò sebbene diversa la voglia di cambiare radicalmente il volto della nostra città e di delineare nuove prospettive più vantaggiose per dare slancio allo sviluppo di Gela era stata accolta dal consiglio comunale nella rispetto della volontà popolare espressa nella votazione del referendum. Con motivazioni prive di fondamento giuridico viene calpestata una scelta democratica espressa da quattro comuni e dalle rispettive comunità. La politica e i cittadini sono sempre più distanti ed ancora una volta non si lavora per il bene comune perché siamo di fronte ad una politica non rivolta a tutti ma solo a pochi. Con questa azione si è tentato di mettere una pietra tombale su un progetto di rilancio e di sviluppo territoriale forse l'unica via d'uscita dalla crisi economica ed occupazionale. Una politica miope che non si accorge delle potenzialità straordinarie che avrebbe potuto avere la nostra città. Accostando Gela, città più evolute che ci anticipano in egregatoria sia in qualità della vita che in efficienza amministrativa per poter iniziare a guardare al futuro di sviluppo territoriale sostenibile in un'ottica europea di pianificazione, progettualità e innovazione. Chiediamo coerenza a tutti i partiti e liste civiche che davanti alla città in consiglio comunale hanno dichiarato e votato sì, aggiunge il consigliere comunale indipendente Cristiano Malluzzo. Non possiamo permettere ai rappresentanti regionali di calpestare per l'ennesima volta la volontà di noi consiglieri che a maggioranza abbiamo detto sì al passaggio con la città metropolitana di Catania. Siamo pronti e disposti a tutto pur di far valere la volontà dei 25.000 votanti che parteciparono al referendum. Bisogna mettere da parte gli interessi personali e pensare allo sviluppo economico del nostro territorio. Inoltre chiediamo alla prima commissione dell'Ars, formata a maggioranza da deputati del centro-sinistra, compreso il capogruppo del PD regionale, di allinearsi con la scelta del civico consesso di Gela. Il PD di Niscemi ritiene ingiustificata e non condivisibile la decisione assunta dalla prima commissione affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana che ha respinto i disegni di legge emessi dal governo regionale contenenti le variazioni territoriali dei liberi consorsi di Caltanissetta, Enna e Ragusa e della città metropolitana di Catania. Tutto questo non rispetta la volontà espressa con referendum popolari e delibere di consigli comunali dei comuni di Gela, Niscemi, Piazza Almedina e Licodia e Obea. Il PD di Niscemi fa un accorato appello al governo della regione a riproporre al più presto i disegni di legge in materia e agli organi istituzionali dell'Assemblea regionale e di approvarli per dare seguito a quanto voluto dalle comunità interessate. E adesso occupiamoci dell'esercitazione con simulazione di rischi incendi che si svolta oggi nel primo istituto comprensivo ad Albani d'Ocella a Gela e che ha concluso il progetto Scuola Multimediale di Protezione Civile. Gela è stata scelta dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile tra le poche città isolane in cui si svolge una esercitazione con simulazione di rischio incendi. L'attività si è tenuta nel primo istituto comprensivo ad Albani d'Ocella e ha concluso il progetto Scuola Multimediale di Protezione Civile. All'appuntamento di oggi erano presenti tutti gli attori operativi coinvolti, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia Forestale e Protezione Civile. I ragazzi sono stati seguiti nel corso dell'anno per imparare a familiarizzare con tutte le figure istituzionali che sono preposte al soccorso. Oggi è la giornata conclusiva per cui i ragazzi e quindi tutta la scolaresca avrà la possibilità di conoscere direttamente e quindi concretamente a livello umano perché finora lo hanno fatto a livello teorico con chi li ha seguiti ma adesso avranno modo di conoscere realmente da vicino tutte quelle persone che sono preposte al soccorso. E quindi è un modo per far avvicinare i ragazzi a queste figure, a non percepirle e a non associare necessariamente al pericolo in senso negativo ma a far capire loro che si tratta di figure che sono dalla nostra parte e che sono dalla parte dei cittadini sempre. Il loro approccio invece come è stato? Hanno fatto delle domande? Come hanno accolto il progetto, l'iniziativa e la giornata? Sì, i ragazzi hanno accolto benissimo il progetto e devo dire è stata un'occasione come dicevo poco fa per superare le titubanze e la preoccupazione perché quando si parla di Croce Rossa, di Protezione Civile si pensa subito alle grandi calamità, agli eventi e in genere si spera sempre che ciò non accada mai a noi e quindi si pensa alle immagini televisive con grande tristezza. Questo è stato un modo per dire che comunque gli enti ci sono, che il cittadino può rivolgersi a loro sempre e quindi è bene conoscere cosa ruota attorno al mondo dell'aiuto e della protezione. Oggi è un momento in cui tutti i componenti del sistema di protezione civile partecipano a questa attività. Il club del soccorso alpino, il vigile del fuoco, la croce rossa, 118, le forze dell'ordine. Ognuno parteciperà a questo evento facendo vedere come si attiva il proprio sistema, come funziona, quali sono gli aspetti fondamentali di ogni ente che partecipa a questa manifestazione. Dopo una fase iniziale dove i vigili del fuoco, la forestale e il soccorso alpino fanno vedere alcune simulazioni di soccorso, i ragazzi verranno portati nella zona centrale, cosiddetta isole, dove sono sei gazebi e dove ogni ente per dieci minuti dimostrerà e farà vedere praticamente qualcosa di importante ai ragazzi. Dopodiché i ragazzi ruoteranno negli altri gazebi in modo da avere una formazione completa. E al microfono di Fabiola Polara ascoltiamo i consigli in caso di calamità naturali del responsabile della protezione civile di Gera. C'è una ragione specifica per la quale queste attività si stanno svolgendo qui in questa scuola di Albani Roccella? Diciamo che ogni anno le scuole debbono fare dell'esercitazione di evacuazione e simulando un incidente che può essere un incendio o un terremoto i ragazzi vengono allontanati secondo un piano di evacuazione della scuola dentro le aree di attesa che sono una a sud in questo caso e una a nord. Nello specifico, nell'ambito del piano di protezione civile nostro comunale questo edificio scolastico è anche area di accoglienza al coperto. significa che in caso di sisma se ci sono delle famiglie che non possono rientrare per le motivazioni che possiamo così intuire che nella propria casa vengono ospitati temporaneamente per una settimana, due settimane, un mese perché questo edificio è stato realizzato a norma simica quindi in caso di terremoto resisterà più di qualche altro edificio magari che non ha quelle condizioni, quelle caratteristiche. Siccome non tutti da casa sanno che questo edificio sarebbe punto di raccolta e di accoglienza possiamo dirlo in caso di calamità naturale tanto grave da dover essere necessario appunto istituire e allestire ad esempio un accampamento per i primi soccorsi tutti coloro i quali dovessero trovarsi in difficoltà possono, anzi devono recarsi in questa scuola. Allora in primo momento tutti devono raggiungere le aree di attesa che nel nostro piano di protezione civile sono le principali piazze dopodiché le aree di attesa significa che debbono stare lì un paio di ore, due ore, tre ore poi l'amministrazione dei soccorsi decideranno chi può essere ospitato in questo edificio che è strutturalmente idoneo per ospitare persone quindi anche nel nostro piano noi abbiamo che questo edificio è area di accoglienza allora la prima cosa che devono fare i cittadini innanzitutto sapere qual è l'area di attesa più vicina all'edificio raggiunge e questo lo possono fare venendo da noi alla protezione civile comunale e siamo a disposizione per indicare nel nostro piano quali sono le aree di attesa vicine dopodiché i soccorsi decideranno di portare le persone o in questo edificio o farli rientrare a casa che bacane la casa è in condizione di poter ospitare di nuovo i proprietari. Il direttivo della Confcommercio Ascomogela alla presenza del direttore della Confcommercio Sicilia Salvatore Scalisi incontrerà l'assessore regionale alla famiglia, politiche sociali e lavoro Gianluca Miciche L'appuntamento è previsto per domani alle 17 verso la sede della associazione in via Cicerone 104 l'incontro è finalizzato alla presentazione del programma regionale Garanzia Giovani per il sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità e delle modalità di implementazione della stessa misura per la cui attuazione la Confcommercio è uno dei soggetti autorizzati dalla Regione. Come ogni venerdì torna questa sera a Gorai il rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico ideato e condotto da Franco Gallo accenderà i riflettori sul settore della sicurezza pubblica e soprattutto sull'altra metà del cielo che veste i panni di tutore della legge e che mantiene l'ordine e la legalità nella nostra città. Donne forti di carattere e di tempra che hanno deciso come scelta di vita quella di indossare una divisa per aiutare una comunità in questo caso la nostra a mantenere un grado di civiltà quanto più alto possibile. Vi ricordiamo l'appuntamento questa sera alle 21 con Agora. Appostamenti e pedinamenti hanno permesso alla Polizia di Vittoria diretta da Rosario Amaru di scoprire numerosi braccianti che lavoravano in nero nelle contrade Rinelli e Salmè. I controlli sono stati intensificati al fine di verificare il rispetto delle norme a tutela del lavoro e della salute dei lavoratori oltre che per prevenire e reprimere il fenomeno del lavoro nero in agricoltura. Sin dalle prime luci del mattino gli agenti hanno osservato i luoghi di reclutamento della Forza Lavoro. L'attività si è svolta, come dicevamo, attraverso appostamenti e pedinamenti propedeutici agli interventi presso le aziende. Alcuni imprenditori agricoli vittoriesi caricavano sui loro mezzi i lavoratori per poi condurli presso le loro aziende agricole. Individuati 27 lavoratori, 16 di nazionalità romena, 8 africani, sub-sariani e 3 italiani, condotti i primi a lavorare in un vigneto, gli altri presso Serre di Primaticci. Sono stati tutti fermati ed interrogati e nonostante la loro ritrosia ad esporre i fatti, gli inquirenti hanno verificato che la paga sarebbe stata stabilita secondo il lavoro fatto, senza alcuna tutela, dunque allo sbaraglio. È stato accertato, inoltre, in un caso, che i braccianti venivano caricati attraverso il portellone posteriore di una station wagon e fatti sedere sul bagagliaio, considerato che in macchina, già occupata da sette persone, non c'era spazio. Nell'azienda di Contrada Rinelli erano destinati i rumeni e il controllo ha fatto emergere che non c'era alcun lavoratore regolare. Nella seconda azienda, in Contrada Salmè, c'erano 11 lavoratori. Solo gli italiani erano regolarmente ingaggiati, mentre gli otto uomini di origine africana, tutti richiedenti asilo, lavoravano in nero. La polizia ha elevato sanzioni amministrative agli imprenditori, 1.650 euro per ciascun lavoratore irregolare, quindi, complessivamente, sanzioni per più di 31.000 euro e sospensione dell'attività imprenditoriale in entrambi i casi. Gli accertamenti sono in corso anche grazie alla collaborazione della Servizio Ispezione e della Direzione Territoriale della Lavoro di Ragusa. Il 15 maggio si celebra la giornata internazionale della famiglia proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La celebrazione riflette l'importanza che la comunità internazionale attribuisce alla famiglia, intesa come unità fondamentale della società. Anche a Gela sarà celebrata la festa con un programma ben nutrito che comprende un giubileo per le famiglie e che si trarrà domenica 8 maggio nella Casa della Misericordia ed un convegno che è previsto, invece, per sabato 14 maggio dal titolo Famiglia diventa ciò che sei. Saranno presenti il Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina, Rosario Gisana, Rita Morelli, psicoterapeuta della famiglia, e Francesco Pira, sociologo. Nel corso del convegno saranno premiati gli alunni delle quarte e quinte classi delle scuole elementari della città che hanno partecipato al concorso Parlaci della tua famiglia. È tutto pronto per la rappresentazione teatrale del Marchese di Ruvolito di Nino Martoglio. Appuntamento previsto per domani e domenica al Teatro Comunale Eschilo sul palco dopo tanti mesi di prove, docenti, genitori ed alunni dell'Istituto Scolastico Paolo Emiliani, giudici, grazie alla collaborazione dell'associazione Grada Team da anni impegnata nei progetti di drammatizzazione inseriti nel POF. Siamo assolutamente fieri e orgogliosi di essere riusciti a fare citare niente che una dirigente scolastica che è veramente la prima volta in Italia che viene questo. Siamo molto orgogliosi di lei come dirigente ma vedrete anche come attrice è straordinaria. Il coinvolgimento poi dei genitori è strepitoso, dei docenti, degli alunni e anche dei collaboratori. C'è tutta la scuola che partecipa. Questo per noi è la grande conquista per eccellenza. La regia è affidata ad Alberto Lo Scalzo. C'è l'emozione, c'è ed è pure tanta. Sono molto emozionati proprio perché è la loro primissima volta però abbiamo lavorato tanto, sono passati diversi mesi dall'inizio delle prove e quindi insomma siamo pronti e speriamo che possa andare tutto bene. Il ricavato della rappresentazione teatrale sarà devoluto in beneficenza e permetterà di acquistare libri di testo da consegnare in accomodato d'uso agli alunni bisognosi. Quando Monica e Alberto ci hanno proposto questo progetto ambizioso che bene si inseriva nella nuova genitorialità che è un progetto nostro del PTOF incoscientemente abbiamo detto tutti di sì ma veramente con grande incoscienza. Il presidente del Consiglio d'Istituto Vincenzo Mondello Visto la nobiltà della causa è andato tutto bene speriamo che in queste ultime due giornate due serate in cui saremo all'Eschilo vada tutto bene altrettanto. Location Teatro Eschilo di Gelo gli appuntamenti sono il 7 e l'8 maggio sabato 7 alle ore 20 e 30 mentre domenica l'8 maggio è alle ore 18. Ci sono ancora posti disponibili? Pochissimi e per chi si accontenta solo nella galleria del secondo piano. Ma i biglietti li avete comprati tutti voi? No, no. Ma nemmeno per sogno guarda li ha comprati tante gente solo per la curiosità di vederci. Proseguono i festeggiamenti per San Giuseppe promossi dal Comitato e dai padri Agostiniani a Gela oggi alle 18.15 recita del Santo Rosario e Litanie e alle 19 celebrazione eucaristica con riflessione omiletica. Ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità. Rieccoci seconda parte del telegiornale la sostenibilità passa attraverso la costruzione di forme sostenibili di mobilità in questo percorso l'educazione dei bambini è fondamentale una città vivibile e una città a misura di bambino dove gli spazi protetti e le politiche di moderazione del traffico permettono ai più piccoli di muoversi in sicurezza vivendo lo spazio cittadino. La FIAB come ogni anno conclude la campagna nazionale BimBimBici a tutela della mobilità per i più piccoli con la pedalata di domenica 8 maggio in tutta Italia. Si parlerà di mobilità sostenibile ai più piccoli e ai loro genitori. Appuntamento previsto dalle 10.30 a domenica presso il piazzale antistante l'Istituto Sor Teresa Valse a Macchitella a Gela. Mini Olimpiade oggi alle Mura Timorontè l'iniziativa rientra nel programma della Primavera dell'Arte giunta alla quarta edizione. Vediamo. Il 2016 è l'anno delle Olimpiadi in Brasile e Gela oggi in una location unica al mondo nel parco archeologico delle Mura a Timorontè ha avuto i suoi giochi olimpici. Grazie all'impegno dell'associazione Green Sport presieduta da Giuseppe Veletti sono stati accolti 1500 piccoli atleti nell'ambito della settima edizione delle Mini Olimpiadi Gela città greca. I protagonisti sono stati i bambini delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria di secondo grado. Ci sono migliaia e migliaia di bambini ragazzini con le famiglie e sembra veramente incredibile quindi a volte i miracoli si possono avverare. I miracoli bisogna anche crederci sussistono purché ci sia la voglia la passione la capacità di crederci fino in fondo e noi ci stiamo credendo ormai da sette anni i gelesi altrettanto lo stanno apprezzando sono 1500 i bambini iscritti 1500 atleti abbiamo avuto atleti anche testimonial che hanno partecipato ai mondiali che andranno alle Olimpiadi in Brasile per cui una manifestazione esemplare. Grazie veramente ai bambini grazie ai genitori grazie ai gelesi che hanno voluto essere qui presenti sicuramente la presenza anche di Antonio Tallarita è arrivato ieri sera da Reggio Emilia per testimoniare appunto questo evento che si sta allargando in tutta la regione Sicilia un campione tra giovani campioni il futuro e la purezza di questi ragazzi lascia immaginare sicuramente che usciranno i grandi campioni che emozioni prova a stare oggi nella sua città natale in un luogo che rivive in questa giornata insieme a tanti bambini e a tante famiglie io ricordo da bambino venivo a correre qua perché era l'unico posto dove non c'era traffico e quindi ritornare qui dopo quasi 40 anni se non 45 anni è molto emozionante e vedere tanti bambini emoziona ancora molto di più oggi è una bella manifestazione ci sono molti ragazzi sono felice per questo che già là ci sia un movimento più allargato l'iniziativa di oggi è stata organizzata grazie al patrocinio del comune di Gela e alla collaborazione del direttore del museo archeologico e il comitato della Croce Rossa e l'istituto comprensivo Giovanni Verga e rientra nelle manifestazioni della primavera dell'arte appuntamento a questa sera alle 18.30 con l'inaugurazione della mostra d'arte gestita dal centro di spiritualità cristiano Salvatore Zuppardo e il convegno con la professoressa Raffiotta il ritorno degli dei e il ritorno della maschera di Ade quindi appuntamento a stasera non mancate ci saranno tantissimi altri appuntamenti da seguire con la primavera dell'arte seguiteci e scoprirete che tutto questo è fatto per valorizzare Gela siamo anche qui quest'anno per inaugurare questa quarta edizione della primavera dell'arte abbiamo i figuranti in abiti greci in questo contesto bellissimo che merita di essere valorizzato e all'iniziativa di oggi era presente l'assessore locale ai lavori pubblici Flavio Di Francesco l'obiettivo della giunta ha dichiarato ai nostri microfoni e quello di valorizzare il bene comune sentiamo Assessore il suo assessorato è partito un po' in sordina stava elaborando i dati per poi invece tirar fuori dal cassetto dei progetti importanti sì sicuramente è partito in sordina perché comunque non è un assessorato facile questo è chiaro la situazione era quella che è quindi stiamo cercando di fare il possibile per far partire anche dei lavori più importanti anche per dare una risposta diciamo di lavoro a quelle che sono le esigenze delle aziende delle ditte fiduciarie e a parte questo chiaramente qui siamo oggi per una bellissima una bellissima giornata organizzata dal professor Veletti noi abbiamo contribuito come amministrazione grazie alla GELAS perché abbiamo diciamo ripulito tutto perché chiaramente è una situazione un pochettino anche qui è difficile per ovviamente permettere le gare e tutti gli eventi che ci sono Assessore le faccio una domanda un po' complicata a GELAS spesso le opere partono una prima manutenzione si fa ma poi si abbandona tutto e tutto ritorna al punto di partenza non sarebbe il caso di cominciare a programmare una manutenzione a lungo termine? Assolutamente sì e ringrazio per questa domanda perché è proprio quello che ho fatto da quando sono insegnato come Assessore ho organizzato una serie di lavori con la nostra partecipata con la GELAS ma anche ovviamente delle gare che devono partire proprio in virtù di fare programmazione non di andare avanti con le urgenze che purtroppo poi ci fanno perdere solo del tempo quindi sicuramente il nostro operato si vedrà nei prossimi mesi perché è chiaro che la programmazione è stata fatta adesso bisogna mettere in pratica quello che abbiamo pianificato Si darà domenica 8 maggio la manifestazione già l'antica organizzata dalla scuderia Valvole Pistoni di Gela preseduta da Davide Millauro si tratta di un raduno di appassionati di auto d'epoca provenienti da Ragusa Piazza Merina Enna e Caltanissetta l'appuntamento è fissato per le 10 su Corso Vittorio Emanuele dinanzi al Museo Archeologico dopo la colazione gli ospiti visiteranno lo stesso museo accompagnati dal direttore Ennio Turco e dal presidente dell'archeoclub di Gela Nuccio Mule subito dopo intorno alle 12 si terrà la sfilata delle auto per le vie cittadine la pagina dello spettacolo è Il bimbo di vetro il film in programmazione al Cine Teatro Antitodo di Machidella a Gela sono tre i orari ve li ricordiamo 17.30 19.30 e 21.30 e domani sempre al Cine Teatro Antitodo di Machidella alle 21 sarà portato in scena dalla compagnia Piccolo Teatro Città di Gela lo spettacolo Noi Donne ma soprattutto Madri la rappresentazione mette assieme diverse opere celebri del panorama letterario all'interno di una cornice attuale e vicina ai fenomeni e alle dinamiche della società moderna l'appuntamento chiude la rassegna Teatro 2015-2016 promossa dal Piccolo Teatro Città di Gela abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti